Domenica 7 luglio, buongiorno, sono le 7 del mattino, l'appuntamento è quello con Lara Segna Stampa, con le notizie che troviamo sui giornali in edicola già da qualche ora. E allora, naturalmente si parla ancora della questione migranti, una questione che in questi giorni è andata sicuramente alla ribalta. Perché? Perché naturalmente sta animando il dibattito politico, anche le polemiche, naturalmente sia il dibattito politico interno italiano che quello con l'Europa. Nella notte, lo sapete, ieri era arrivata l'imbarcazione Alex dell'ONG Mediterranea, chiedeva di entrare nel porto di Lampedusa, il Viminale e il Ministero dell'Interno, anzi il Ministro dell'Interno Salvini, aveva opposto il divieto. La nave, anzi un'imbarcazione a vela comunque forzato, il blocco navale è arrivata nel porto di Lampedusa e nella notte sono stati fatti sbarcare gli oltre 40 migranti. E questo per quanto riguarda, per così dire, la cronaca, adesso naturalmente gli viene data assistenza. La barca è stata sequestrata e l'equipaggio però risulta al momento indagato. Invece l'altra imbarcazione, l'Alan Kurdi, che stava facendo anch'essa rotta verso Lampedusa, avrebbe cambiato destinazione e si starebbe dirigendo verso il porto della Valletta all'isola di Malta. Però naturalmente questo episodio ha innescato, come vi dicevo, anche delle polemiche e soprattutto un botta in risposta tra Salvini e i colleghi dell'esecutivo Tria e la collega della Difesa 30. Questo per quanto riguarda l'emergenza migranti. Poi c'è un altro tema, perché? Perché oggi questo riguarda soprattutto le notizie che vengono dall'estero. Oggi si va al voto in Grecia. Possiamo vedere insieme le immagini della regia che ci arrivano in diretta proprio da uno dei seggi che sono stati allestiti per queste elezioni politiche. Secondo i sondaggi il favorito però non è l'attuale premier, ma invece il leader del centrodestra. Sembra infatti così che i greci vogliono in qualche modo far scontare il passaggio epocale, e lo ricorderete certamente anche tragico, dell'economia greca dell'attuale premier, appunto, Tsipras che ha dovuto affrontare una situazione molto difficile che ha lasciato però il segno nel popolo greco. E i sondaggi quindi non lo danno favorito, ma danno favorito invece il suo avversario politico che è il leader del centrodestra. Staremo a vedere poi a conclusione della giornata se i sondaggi saranno o meno confermati. Queste allora sono le due principali notizie che troviamo sui giornali. Andiamo a vedere però nel dettaglio, cominciamo dal Corriere della Sera, il titolo d'apertura. Prove di forza sui migranti, sequestrata la nave di Mediterranea, indagato l'equipaggio, scontro con la difesa, lite con Berlino. Lo scontro con la difesa è tra i due ministri, una polemica appunto a distanza che c'è stata tra Salvini e la ministra Trenta. Salvini ha detto sostanzialmente la Marina non ci è stata di supporto, invece la replica del ministero della difesa è stata noi vi abbiamo offerto le nostre navi per portare, per escortare o comunque dare sussistenza all'imbarcazione a vela, ma dal Viminale ci è stato risposto che ci si poteva comunque tranquillamente cavarsela in autonomia senza il supporto del ministero della difesa. E poi sotto il veliero a Lampedusa tutti sbarcati, Salvini lasciato solo nel governo. E poi qui c'è un po' il diario, la cronaca di quelle ore, avanti tutta entriamo, diario di un'incursione, il capitano è uno skipper milanese. E poi ancora abbiamo accanto, se ne parla ancora, parla David Sassoli perché c'è un'intervista che poi andremo a vedere nel dettaglio con il neopresidente del Parlamento europeo, appunto David Sassoli, che dice per gli arrivi tocca all'Unione europea. Restiamo per un momento sulla prima pagina del Corriere della Sera perché vi segnalo questo editoriale di Ferruccio De Bortoli e andiamo a vedere il titolo. Un bagno di realismo ci fa bene e De Bortoli però concentra la sua attenzione in particolare sull'economia. Il buonsenso non si è perduto e va dato atto al premio Giuseppe Conte, al ministro dell'economia Tria, di aver ricondotto a più miti consigli due azionisti del governo, mentre Matteo Selvini e Luigi Di Maio proseguivano nella loro competizione di annunce e polemiche e gli interlocutori italiani della Commissione europea hanno trattato per scongiurare una procedura di infrazione sul debito, una sanzione che ci avrebbe confinato fino al 2024 in una sorta di purgatorio europeo. Così scrive De Bortoli nel suo editoriale. Andiamo a vedere un altro giornale molto rapidamente. Vediamo, no, questa è la gazzetta sportiva, la vediamo dopo. Andiamo a vedere la Repubblica. Il titolo di apertura, Calvario Lampedusa, sbarcati nella notte migranti, portati sull'isola dal veliero Alex, poi sequestrati. Indagati membri dell'equipaggio, Salvini contro la Guardia di Finanza e la Marina, dura replica della difesa, rispetto per i nostri militari, non ha voluto collaborare. E poi c'è un'intervista, che andremo a vedere anche questa, è del ministro dell'interno libico, del governo presieduto dal Sarraci, che è il leader libico riconosciuto dalla comunità internazionale. L'altro, ve lo ricordo, è il generale Khalifa Haftar, invece, che non è riconosciuto dalla comunità internazionale, ma sostenuto da alcune nazioni. E allora che cosa dice? La Libia chiudere i campi, ma l'Europa non fa nulla per fermare la guerra. Lo sapete, c'era stato un allarme proprio qualche giorno fa, perché Sarraci aveva detto, io potrei chiudere questi campi di detenzione dei migranti e a quel punto i migranti probabilmente cercherebbero di arrivare in qualche modo in Europa. C'è l'editoriale di Eugenio Scalfari, dedicato a Putin, ma lo leggiamo tra qualche minuto. Adesso diamo la linea alla regia e ci vediamo tra qualche istante. Vi aspettiamo. 12 minuti dopo le 7, ben ritrovati. Allora, ci eravamo lasciati con la promessa di leggere l'editoriale di Eugenio Scalfari su Repubblica. Il titolo è su Putin, è la visita che c'è stata del Presidente della Federazione Russa in Italia. E il titolo Putin, le due Italie, è un pericolo da evitare. Allora, scrive Eugenio Scalfari, sui giornali di venerdì, le prime pagine erano fitte di articoli su Putin arrivato in Italia, erano quattro anni che Putin e la sua carica di Presidente della Russia non veniva nel nostro paese. Conosceva bene, anzi benissimo, alcuni italiani, tra i quali soprattutto Salvini, con il quale, si dice, avesse avuto rapporti non sempre paresi, ma comunque estremamente utili all'uno e all'altro. Al suo arrivo a Roma, giovedì scorso, Putin ha visto il Presidente della Repubblica, Mattarella, Giuseppe Conte nella sua funzione di Presidente del Consiglio, ma innanzitutto Papa Francesco in Vaticano. E poi, sotto, saltiamo questo passaggio, andiamo a quello che ci interessa più da vicino, che è la questione migranti, perché dice, è inutile dire che tra i vari incontri c'è stato quello di Putin con Salvini. I temi hanno certamente toccato quello che sta tanto a cuore del nostro Ministro dell'Interno, e c'è la migrazione dall'Africa e la necessità di impedirla. Putin conosce perfettamente il problema, ma quello che più interessa al capo della Russia è che l'Italia abbia un ruolo predominante in Europa. Si dirà che questo modo di concepire le relazioni a tre tra Russia, Italia e Unione Europea è molto singolare, ma a rifletterci bene non è così. Questo scrive Eugenio Scalfari a proposito di migranti. Vi segnalo da quest'altra parte della prima pagina questa intervista al Ministro Tria, meno tasse per la classe media. Allora lo andiamo subito a vedere perché nella parte finale dell'intervista il Ministro Tria parla anche di migranti e di migrazione. Allora gli chiedono come giudica il caso Sea-Watch e la scarcerazione, lo ricordate, la Sea-Watch 3, quella della capitana tedesca Carola Rachete. Allora dice come giudica il caso e la scarcerazione della capitana Carola dopo che ha speronato un'imbarcazione della Guardia di Finanza. Il Ministro Tria, tra l'altro il Ministro dell'Economia, è anche come dire in un certo senso il titolare anche della Guardia di Finanza. E allora bisogna sempre avere rispetto per la magistratura, risponde Tria, ma si rimane perplessi di fronte a decisioni che contrastano con il buonsenso, questo indipendentemente dai giudizi che si possono dare sulle politiche migratorie e sulle migrazioni. Mi piacerebbe che ci fosse un po' di unità nazionale di fronte a una violazione palese delle leggi di uno Stato democratico come quella che è avvenuta. Naturalmente poi dopo andremo a vedere più nel dettaglio questa intervista al Ministro Tria perché naturalmente parla di economia. Però se mi permettete, restiamo sempre su Repubblica perché vi avevo anticipato che c'è un'intervista al Ministro dell'Interno libico proprio. E allora è interessante andare a leggerlo perché che cosa dice il Ministro? La Libia ha deciso stop ai campi per i migranti. E allora nella parte alta di questa intervista che ha rilasciato a Vincenzo Nigro dice «Ho discusso il piano di chiusura dei campi di detenzione dei migranti con le Nazioni Unite è qualcosa su cui andremo avanti perché ormai è solo un danno politico per la Libia. Nei nostri centri ci saranno 7.000 migranti illegali, fuori ce ne sono centinaia di migliaia. E allora a cosa servono questi centri se non a scatenare polemiche contro di noi? Responsabilizziamo di più la comunità internazionale, affrontiamo insieme questo tema, smontiamo queste polemiche e guardiamo in faccia la realtà. Qui c'è una guerra che colpisce 7 milioni di libici. Voi ci chiedete solo dei migranti e non fate nulla per fermare la guerra». Così dice il ministro libico. E poi ancora leggiamo un'altra domanda. Ministro, quindi la sua non è una provocazione, una dichiarazione ad effetto. Dice «No, è un piano motivato da ragioni politiche». E le aggiungo «Io sono essere fatto, ogni volta che ci vengono inviati europei ci chiedono solo dei migranti, non si interessano della Libia, delle condizioni del popolo, del fatto che Haftar, il generale califa Haftar, stia polverizzando quel che rimane delle strutture di questo paese. Nulla, silenzio, complicità». Così l'intervista al ministro dell'interno libico. Allora, torniamo alle prime pagine, perché era comunque importante approfondire questo tema. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa. «I migranti a Lampedusa», quindi si torna nuovamente a parlare dell'emergenza. «Salvini attacca il governo, mi avete lasciato solo. Berlino, riaprite i porti ai profughi». C'è stata una telefonata ieri tra il ministro Salvini e il collega tedesco. Ha detto «Noi siamo disponibili a prendere alcuni dei vostri migranti». Però ha detto «Rivedete la vostra posizione sulla chiusura dei porti». E il ministro dice «Vi rimando in ambasciata. Il carroccio è disponibile con Conte. Valuteremo il voto alla nuova Commissione europea». L'editoriale del direttore della stampa, Maurizio Molinari, ecco, ce l'abbiamo qui a sinistra, anche in questo caso è dedicato a Putin. L'offensiva di Putin è in affanno. Così è il titolo del suo editoriale. Allora, vediamo che cosa scrive il direttore. «L'intento resta la ricostruzione dell'impero russo, ma il disegno di portale scompigli in Occidente comincia a mostrare qualche crema. Crepa, scusate. La visita a Roma del presidente russo Vladimir Putin ha confermato che l'offensiva sovranista del Cremlino segna il passo. La ricostruzione dell'impero è nel linguaggio del corpo e nelle azioni di Putin. Chi lo ha incontrato a tu per tu è stato colpito dal suo sguardo fisso verso l'orizzonte, da un misticismo laico che somma nazionalismo e fede ortodossa, così come dalla determinazione a difendere ad ogni costo l'annessione della Crimea del 2014 con la relativa violazione alla sovranità dell'Ucraina». Così scrive Maurizio Molinari e poi naturalmente vi rimando a una lettura più completa per chi vorrà. Andiamo a vedere altre aperture. Abbiamo il Sole 24 Ore che apre sul CSM. Nuovo CSM, il CSM è il Consiglio Superiore della Magistratura, in questa settimana ne abbiamo parlato spesso per l'inchiesta aperta dalla Procura di Perugia. Allora, governo e maggioranza per una riforma che lascia al Consiglio solo la scelta dei vertici, degli uffici. L'obiettivo è arginare, carrierismo e logiche spartitorie. Resta la spinta sul sorteggio dei componenti. E poi questo titolo, guardate, lotta all'evasione, reati tributari in calo del 28%, condanna nel 9% dei casi. Questo è il titolo del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere un altro giornale. A una prima pagina abbiamo il messaggero. Caos sbarchi, Salvini lasciato solo. Questo è quello che avrebbe detto, quindi come vi ho ricordato, in polemica con il Ministro Tria e con il Ministro della Difesa 30. Il veliero Alex, quello appunto che ha traccato a Lampedusa, entra nel porto di Lampedusa, miglioranti a terra, nave sequestrate, comandante indagato. La Germania aprite i porti, il Ministro non se ne parla, ma è scontro con difesa ed economia. Il messaggero, naturalmente, è un quotidiano particolarmente attento alle vicende della capitale e dedica ampio spazio a un'altra emergenza, quella più locale dei rifiuti. Allora vedete il titolo, Roma rifiuti strada, l'emergenza durerà almeno un altro mese. Gli impianti del Lazio sono pronti, ma l'AMA, che è proprio l'azienda che si occupa della raccolta, non riesce a raccogliere e inviare tutta la spazzatura. Anche su questo, se abbiamo tempo, ma non credo, vedremo di approfondire la questione. Vediamo altre prime pagine. Il manifesto al voto. Siriza rischia di pagare pegno. In questo caso parliamo delle elezioni in Grecia. Infatti lo vedete dall'occhiello. Oggi alle urne per le elezioni anticipate. Fotonotizia, come negli ultimi giorni, dedicata all'emergenza migranti. Terrificante. Il veliero della Mediterranea, con 46 naufraghi a bordo, rompe il divieto e attracca Lampedusa. Ma il cinismo di Salvini non ha freni. Bloccati sulla barca, sotto il sole e senza servizi igienici. Fino a notte, i migranti è vietato a scendere a terra e sequestro. L'ITE con la ministra Trenta. Sono le 7.20. Io mi fermo qui con la rassegna stampa. Adesso subito la linea a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo. con il buongiorno. Sì, buongiorno. Queste sono le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi. Ieri l'instabilità, insomma, si è fatta sentire. Al sud e al centro non c'è nulla. C'è qualcosa, vedete, fra Liguria, Emilia, Alta, Toscana. E poi c'è il nord-est, con una piccola zona dove i fenomeni potrebbero essere più intensi. Addirittura, tenete tenuto conto che prende anche, diciamo, la mattinata, quindi questi sono di solito fenomeni del pomeriggio, una piccola macchia gialla al centro del Veneto. Potrebbe essere un temporale, un rovescio. Vediamo nella seconda parte della giornata che succede. Non si intensifica questa nulosità, questa instabilità che si affaccia nelle ore di pranzo. Il primo calcolo, vi ricordo, è alle 14. questo è dalle 14 alle 2 di notte. Sul nord-est le piogge ci sono, c'è la piccola zona proprio al centro del Veneto, però complessivamente di fenomeni non ce ne sono così tanti. Quindi è una instabilità che si attenua sicuramente rispetto al giorno precedente. Al centro-sud non c'è niente. Vediamo lo sviluppo successivo. Si attenua ulteriormente e sparisce? No, perché domani abbiamo, con l'eccezione proprio della parte più occidentale del nord. Le piogge deboli, è vero, ma spesso anche in blu, moderate o localmente, le piccole macchie gialle ci sono. E questa volta le piogge scendono anche a prendere tutta l'Emilia Romagna, parte della Toscana, parte dell'Umbria, delle Marche. Sono piogge debolissime, però ci arrivano dopo, come dire, giorni e giorni che lì non ci arrivava veramente nessuno. al sud non c'è molto. Vediamo anche la giornata di martedì e vedete che c'è in realtà un cambio di passo, quindi abbiamo un tempo diverso e se avete seguito la giornata di ieri sono previsti abbassamenti di temperature. Ecco anche perché perché martedì tutto il nord e buona parte del centro, zona interna e parte adriatica hanno comunque un tempo instabile soprattutto nel pomeriggio ci possono essere dei temporali se no comunque le nuvole e qualche pioggia sicuramente ci sono. Sulle zone dove non sono previste piogge è prevista almeno una copertura nuvolosa, il grigio delle nuvole quindi sicuramente una giornata diversa da quelle che abbiamo che avremo vissuto fino a martedì. Poi vedremo in settimana come continua questa situazione. è anche normale che dopo un tempo molto stabile per molti giorni poi ci sia il momento di leggero cambiamento e fisiologico in qualche caso è anche auspicabile. Vediamo le temperature di questa mattina forse in leggera diminuzione sulle zone del centro ma i valori sono abbastanza fermi e poi lo stato dei mari anche oggi tranquillissimo a parte lo ionio molto allargo e poi alcune zone del Tirreno del Mar Ligure localmente mosse oltre questo non si va prossimo appuntamento se volete subito prima delle 7.55 anche con delle foto qualcuna un pochino particolare è successa una cosa strana mettiamola così adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale un pochino un pochino un pochino un pochino un pochino